Signori, una cosa incredibile, c'è stata una partecipazione al Chubby Balli Challenge, Chubby Banni Challenge, scusate, però non è stata ripresa, il karma ha voluto che la partecipante di qui sopra ripeterà la sfida che è, una ragazza che non ho idea di chi sia, si chiama Giulia, guarda in casa, però attenzione, incredibile, insieme a lei, quindi la prima gara a coppia Francesca del Frate, conosco il cognome perché è mia amica su Facebook, perciò passerò 1 e 1 e il conteggio sarà il seguente, partiamo, 1 e 1, aspetta vai, parti prima da lei, un Chubby Bunny, un Chubby Bunny, non l'assaporate, mettetelo bene, 2 Chubby Bunny, 2 Chubby e siamo a 2 Chubby Bunny, a testa, nella prova precedente lei ha pianto, non dico per dire ha pianto, per commozione, 3 Chubby Bunny, 3 Chubby Bunny, ottimo, ottimo, avanti col quarto, 4 Chubby Bunny, 4 Chubby Bunny, siamo a 4 Chubby Bunny, una bolgia signori, malvista tanta roba in bocca, 5 Chubby Bunny, 5 Chubby Bunny, 5 Chubby Bunny, mi sembra che abbia detto 5 Chubby Bunny, mi ricordo che valgono 1 e mezzo, ma il conteggio lo facciamo in fondo, 6 Chubby Bunny, dal naso, li puoi sistemare meglio, record personale, attenzione, e questo è un po' che vuoi mettere in bocca? Scusi no, non l'abbiamo sentito. Doveste andare a letargo. Bravissima ragazzi, vedi la competizione tra le persone. Sara nooo, abbiamo sempre una che mi sbuta, una che mi sputa, una che mi smutta, una che sbutta. No potete mai facciare, 1930, Durante� Bunny. che sono bene perché va oltre delle emozioni una col cuore di pietra